Radio Radicale, siamo col professore Valdo Spini, autore del Colle più alto, erito da Solferino, che ripercorre la storia delle elezioni dei Presidenti della Repubblica, per parlare del 75esimo anniversario del voto della Costituente che approvò definitivamente prima della firma del Capo Provvisorio dello Stato, De Nicola, che la firmò negli ultimi giorni del 1947, la nostra Costituzione. Una giornata molto importante che forse è il caso di ricordare. Allora, 75 anni dopo, la nostra Costituzione ha avuto tante modifiche. Lei ritiene che sia la stessa 75 anni dopo e che valutazione farebbe di come stiamo difendendo questa Costituzione? Il valore della Costituzione è enorme perché dimostrava la capacità dell'Italia, che usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, dal regime fascista e dopo la glorosa pagina della Resistenza, di darsi degli ordinamenti veramente democratici. È una Costituzione che mi sembra la prima in quel periodo che parla anche della dignità della persona, è un concetto di grandissimo rilievo. Le modifiche che sono intercorse dopo, mica sempre sono state molto felici. Credo che per esempio la modifica del titolo quinto della Costituzione non sia andata nel senso che sarebbe stata auspicabile, ha creato più confusione nei rapporti interni che altro, mentre altre sono giuste, nel senso che per esempio il fatto che sia stato messo nella Costituzione il tema dell'ambiente, che è un tema fondamentale ai nostri tempi, ha dimostrato la sua capacità di accogliere le novità. Certo sotto la Costituzione c'era anche di fatto sotto la Carta Costituzionale, anche se non sancito, c'era di fatto un sistema proporzionale costituente, un sistema proporzionale elettorale diciamo. E questo nel tempo è stato poi variato, è diventato di fatto questo sistema maggioritario, un po' bastardo che abbiamo oggi, che però non si è ben collegato con il resto della Costituzione. Quindi questo tema del sistema elettorale, che è legge ordinaria, ma che ridia veramente il potere in mano agli elettori e il suo collegamento con le strutture dello Stato che sono elette dalla Costituzione, che da questo tema si ponga anche oggi e che vada affrontato e risolto nello spirito democratico che presiedette i lavori della Costituente. Senta, i lavori della Costituente ebbero un esito nell'elaborazione della Costituzione repubblicana ambiguo. Allora, c'è rimasta aperta la questione della proprietà privata dell'articolo 49 della Costituzione. Ci fu rimasta aperta anche per tanti anni la questione dei patti lateranensi. Allora, fu un grande lavoro di compromesso che lasciò tante questioni aperte e anche inattuate? Beh, come diceva Piero Calamandrei, è anche una rivoluzione promessa. La battaglia per attuare cose, diciamo, articoli negletti della Costituzione, come per esempio riformare i patti lateranensi e attuare l'articolo 8 per le confessioni religiose diverse dalla cattolica, sono state battaglie che hanno percorso questi decenni. Però la vitalità del testo costituzionale è stata proprio questa, che proprio alla luce e in funzione dell'attuazione della Costituzione sono fatte battaglie importanti per i diritti nel nostro Paese, per i diritti di libertà, di religione, di diritti civili. Quindi veramente a questo punto di vista è un messaggio fecondo. Mi auguro che si faccia ora una battaglia intensa per l'articolo 49 della Costituzione, cioè l'organizzazione democratica interna ai partiti, la loro trasparenza, perché c'è bisogno di ridare un rapporto fra le istituzioni, la politica e l'elettorato. Nelle ultime elezioni la percentuale degli astenuti è stata del 37%. E anche fra quelli che hanno votato, un altro 4% hanno votato bianco oppure hanno annullato la scheda. Beh, è un campanello d'allarme, mi domando. La domanda è retorica, ma non sembra che forse le forze politiche di oggi l'abbiano fino in fondo afferrate. E per rispondere positivamente a questo ci sono adunto due cose. L'attuazione dell'articolo 49 sull'ordinamento democratico dei partiti, da un lato, è dall'altro lato un sistema elettorale che ridia veramente il potere agli elettori di sapere quali sono i loro rappresentanti in Parlamento e non di affidarli a liste bloccate che rappresentano una negazione della democrazia. Senta, perché ci volle così tanto per l'istituzione delle regioni, della Corte Costituzionale, del CSM. Allora, si può dire che 75 anni fa fu scritta una bella pagina della nostra storia istituzionale, ma senza pensare poi in fondo al domani, anzi, pensando quasi esclusivamente al dopodomani? Ma credo che il vero problema sia su questo piano, era di avere una vera rottura di continuità, da un lato con il regime fascista, ma anche con il regime liberale che aveva preceduto il fascismo, cioè con le insufficienze dell'Italia liberale che avevano preceduto il fascismo. Da questo punto di vista la Costituzione, come dicevo prima, Calamandrei la descriveva come rivoluzione promessa, quindi anche come rottura di continuità. Ci è voluto troppi anni. Perché ci è voluto troppi anni? Perché nel frattempo era intercorsa la spaccatura del mondo in blocchi, la divisione Est-Ovest che aveva creato la divisione fra le forze che avevano portato alla Costituente. Però alla fine credo che non ci possiamo affatto pentire di avercela fatta e di avere nuovo slancio per applicare pienamente sia la lettera che lo spirito della Costituzione anche in questi nostri difficili anni 20 del 2000, queste sfide che abbiamo per prossimi decenni. La situazione è naturalmente molto cambiata dal punto di vista politico, ma guai a noi se smarriamo la bussola dell'attuazione piena, concreta e efficace del dettato costituzionale. Senta, un'ultima domanda. Se dovesse pensare ai Costituenti, chi le viene in mente per primo come pensando al contributo dato alla Costituente? Beh, naturalmente sono tanti. Ma quello è il primo? Beh, come vecchio socialista penso all'elio basso che ha messo del suo nell'articolo 3, che è un articolo fondamentale. Quello sull'uguaglianza. Esattamente, quello sull'uguaglianza e poi in tante battaglie che ha dato. Credo che a volte questo contributo non è sufficientemente ricordato. E poi certo il contributo dei cattolici come Aldo Moro e Giorgio Lapira fu fondamentale. Bene, la ringrazio per la sua disponibilità, per aver parlato dei 75 anni dell'approvazione alla Costituente della Carta Costituzionale. Ringrazio il professor Valdo Spini, autore del Colle più alto, edito da Solferino.